L'Assemblea Generale della CGL di Ravenna, che si è svolta oggi, ha eletto con il 93% dei voti favorevoli Marinella Melandri, segretaria generale della Camera del Lavoro di Ravenna. Marinella Melandri succede a Costantino Ricci, che ha terminato i due mandati da segretario generale che lo hanno visto alla guida della CGL di Ravenna per otto anni. Marinella è inoltre la prima donna a ricoprire questa importante carica all'interno della CGL di Ravenna. Sono soddisfatta nel senso che abbiamo provveduto allo svolgimento dei lavori relativi all'elezione anche in questo momento così complicato, con una votazione a scrutinio segreto e quindi con un'organizzazione piuttosto complessa che, nonostante tutto il rispetto delle regole, ha funzionato alla perfezione grazie all'impegno delle compagne e dei compagni che hanno organizzato tutta quanta la mattinata. Gli impegni che abbiamo di fronte sono tanti. La prima preoccupazione naturalmente è per l'occupazione. Abbiamo un'economia territoriale che è stata fortemente compromessa dalla pandemia. Dobbiamo capire che cosa succederà. Per ora il blocco dei licenziamenti è stato prorogato fino a marzo, ma a quel momento dovremo capire se le imprese che hanno avuto comunque utilizzo di cassa integrazione saranno in grado di riprendere la loro attività a pieno ritmo. Poi abbiamo bisogno di guardare al futuro, di vedere quali saranno gli investimenti che arrivano su questo territorio e che possano dare uno slancio reale all'economia per creare nuova e buona occupazione. Noi intanto svolgiamo un'azione di tutela rispetto a tutte le tipologie di lavoro. Quindi nella nostra Camera del Lavoro sono rappresentate tutte le categorie. Abbiamo alcune aziende che sono in crisi. Abbiamo soprattutto un mondo del lavoro molto frammentato con tanto lavoro precario. La nostra è un'economia fortemente improntata anche al lavoro stagionale. E quest'anno abbiamo già visto che gli effetti della crisi hanno prodotto minore occupazione, occupazione più precaria e hanno prodotto un minore numero di contratti stagionali per cui questo determina già, determinerà un impatto in termini di povertà, di riduzione del reddito e quindi un impatto anche sociale che sarà da gestire anche in accordo con gli enti locali con delle misure di aiuto e di sostegno. Poi c'è il bisogno di rilanciare un'economia guardando al futuro, guardando all'evoluzione del sistema economico e produttivo. Lei è anche la prima donna che assume questo incarico all'interno della CGL di Ravenna. Come ci si sente? Ci si sente con una responsabilità in più. Noi come CGL siamo impegnati da tempo per fare in modo che ci sia la possibilità per le donne in ambito sindacale di esprimersi, di svolgere a pieno il loro mandato sindacale, di poter ricoprire tutti quanti i ruoli. Nella riunione di questa mattina il segretario regionale della CGL ha fatto notare che in questo momento sono la settima segretaria generale donna dei territori dell'Emilia-Romagna, quindi un percorso importante di valorizzazione. Ecco, diciamo che l'obiettivo sarebbe poter ricoprire questi ruoli senza avere la necessità di rimarcare l'appartenenza a un genere oppure all'altro.